Buon pomeriggio, benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca perché c'è stata un'operazione della Guardia di Finanza, operazione Galaxy, importazione di auto dall'estero senza pagare l'IVA, la Guardia di Finanza di Isernia ha esteso quest'operazione a tutto il territorio nazionale 23 gli arresti, 7 milioni e mezzo di euro sequestrati, due gli isernini, un uomo e una donna che sono finiti in carcere le fiamme gialle hanno letteralmente scoperchiato il vaso di Pandora dell'importazione illegale di auto sul territorio nazionale, 1600 le macchine immatricolate illegalmente in Italia per un IVA evasa dunque di 7 milioni e mezzo con fatture false per 52 milioni, a presentare i risultati di una delle più importanti operazioni della Guardia di Finanza Isernia, è arrivato a Isernia anche il comandante regionale, il generale Antonio Marco Appella vedremo in seguito il servizio di Enzo Di Gaetano, intanto andiamo avanti con il telegiornale la procura regionale della Corte dei Conti ha messo sotto inchiesta la gestione contabile della sanità molisana relativa agli ultimi 7 anni, ascoltati il presidente Toma, il direttore generale della salute Lolita Gallo e i commissari Giustini e Grossi pronta la nomina del nuovo direttore generale dell'ASREM come previsto la procura regionale della Corte dei Conti ha avviato l'iter per fare chiarezza sui conti della sanità molisana erano stati i commissari Angelo Giustini e Ida Grossi su input del Ministero dell'Economia a presentare un esposto dopo aver richiesto reiteratamente alla regione il versamento sul conto corrente dell'ASREM dei 4.250.000 euro incassati nell'anno 2018 per effetto dell'incremento delle addizionali IRAP e IRPEF imposto dal governo per il mancato raggiungimento del pareggio di bilancio nella sanità martedì scorso la procura della Corte dei Conti ha convocato prima il presidente della regione Donato Toma insieme al direttore generale della salute Lolita Gallo in mattinata e nel primo pomeriggio i commissari Angelo Giustini e Ida Grossi al momento poco o nulla è dato sapere sull'esito degli incontri ma dalle poche notizie filtrate si è appreso che la procura si sta muovendo su un fronte molto più ampio della semplice restituzione dei 4.250.000 euro all'ASREM sotto i riflettori dei magistrati contabili sono finiti i conti della sanità relativi agli ultimi sette anni e precisamente dal 2012 a oggi in sostanza si tratta dell'intera gestione dell'ex commissario ed ex presidente della regione Paolo di Laura Frattura e di un anno o poco più nel corso del quale al vertice di via Genova è subentrato il governatore Donato Toma che però non ha mai ricoperto l'incarico di commissario ad Acchetta gli accertamenti della procura della corte dei conti continuano e ne sapremo di più nelle prossime settimane nel frattempo i ministeri della salute e dell'economia fanno pressing sui commissari Giustini e Grossi al fine di risolvere in tempi rapidi le osservazioni formulate dal tavolo tecnico nel corso della verifica sul piano di rientro dello scorso 24 luglio tra queste osservazioni emergono l'integrazione del Cardarelli con la Cattolica l'extra budget per le strutture private accreditate l'eliminazione del reparto di senologia di Isernia e del punto nascita di Termoli quest'ultimo bloccato però dalla recente decisione del Consiglio di Stato intanto l'apposita commissione nominata dalla Giunta regionale è al lavoro per selezionare il nuovo direttore generale dell'ASREM e secondo indiscrezioni entro fine mese il governatore Donato Toma procederà alla nomina del sostituto di Gennaro Sosto L'Aggiunta regionale ha presentato una proposta di legge che emende all'articolo 8,1 della legge di stabilità del 30 gennaio 2017 essa si inquadra nel complesso delle norme nazionali e regionali che regolano l'erogazione ai comuni del contributo per l'espletamento del trasporto pubblico urbano la regione infatti contribuisce al finanziamento dei servizi minimi ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti per il 70% della spesa effettivamente sostenuta la legge di stabilità regionale per stimolare i comuni a espletare le gare d'appalto del servizio di trasporto urbano entro il 1 settembre 2017 ha stabilito che in caso di inadempimento il contributo regionale è sospeso fino alla pubblicazione del bando con l'attuale proposta dell'Aggiunta si prende atto invece delle difficoltà riscontrate dalle amministrazioni e si prevede che i comuni avranno tempo di pubblicare il bando di gara fino al 31 dicembre 2020 decorso inutilmente tale termine il contributo regionale allora verrà sospeso la proposta di legge passa ora all'esame della commissione il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani ha presentato un'interrogazione in cui chiede al governatore Donato Toma e all'assessore regionale trasporti Vincenzo Niro se la regione abbia ottemperato alle disposizioni di legge che da inizio anno vietano la circolazione di veicoli euro zero e si abbia espletato tutte le attività utili ad adeguare le flotte agli obblighi di legge obbligandole ai gestori del servizio di trasporto pubblico locale agli uffici di motorizzazione e alle imprese assicuratrici se lo ha fatto continuato Primiani Toma e Niro devono spiegare come e devono fornire i relativi atti consiglio comunale monotematico sullo zuccherificio del Molise domani a Termoli l'ordine del giorno è stato chiesto dal Movimento 5 Stelle dalla rete della sinistra si chiede un impegno per i lavoratori che non sono stati ricollocati sentiamo Manuela Iorio una vertenza dimenticata quella degli ex dipendenti dello zuccherificio del Molise che si sono ritrovati senza un'occupazione con gli ammortizzatori sociali scaduti senza un reinserimento nel mondo del lavoro a tre anni di distanza dalla chiusura e dopo mesi ormai di silenzio sulla vicenda domani se ne discuterà a Termoli in un consiglio comunale monotematico chiesto dai consiglieri del Movimento 5 Stelle della rete della sinistra rappresentata da Marcella Stumpo l'appuntamento è per le 17.30 un unico punto all'ordine del giorno in cui viene ricordato che le forze politiche e regionali non sono mai riuscite a risolvere le richieste dei lavoratori né a procedere a una ricollocazione dei dipendenti considerando una partecipazione del 100% della regione nella società in questi anni i lavoratori più giovani sono riusciti a trovare un'occupazione alternativa altri hanno cambiato settore aprendo delle attività altri ancora sono stati costretti a trasferirsi trovando lavoro al nord ci sono però anche quelli che non sono riusciti a ricollocarsi i consiglieri del Movimento 5 Stelle della rete della sinistra con l'ordine del giorno chiedono di impegnare il sindaco e la giunta a sollecitare gli organi del governo nazionale della regione molise affinché pongano in essere tutte le iniziative volte a favorire progetti per la ricollocazione dei dipendenti che in questi anni non hanno ancora trovato alternativa alla precedente attività presso lo zuccherificio si chiede inoltre di dare mandato al presidente del consiglio comunale di trasmettere l'ordine del giorno alla regione molise alla delegazione parlamentare e al ministero del lavoro al consiglio di domani parteciperanno anche gli ex dipendenti dello zuccherificio chiediamo la copertura dei binari con la ricucitura del centro cittadino no all'interramento così come è stato proposto dall'ex sindaco sbrocca né alle barriere antirumore di RFI così il comitato cittadini in rete in vista della riunione tecnica in comune a Termoli tra i rappresentanti delle ferrovie il sindaco Francesco Roberti Termoli con questo raddoppio di cui siamo favorevoli non ottiene nulla se non i pannelli di quasi 8 metri RFI ci serve uno spezzatino del progetto che noi non accettiamo così come non ci piacciono i progetti calati dall'alto ha dichiarato Carmela Sica a breve sarà garantita maggiore sicurezza sui trasporti pubblici regionali sia su gomma sia su ferro questo è il commento della consigliera regionale Filomena Calenda dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale e della sua mozione firmata anche dal presidente dell'assemblea Salvatore Micone il documento impegna l'assessore regionale trasporti Niro a porre in essere tutte le azioni necessarie per attivare accordi e convenzioni che garantiscano tariffe agevolate o gratuite per gli agenti di pubblica sicurezza che viaggiano sulle tratte molisane un provvedimento ha spiegato Calenda già divenuto realtà in diverse regioni che a breve sarà tale anche in Molise l'idea è incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici di lavoro in tal modo aumenterà il livello di sicurezza sulle tratte regionali ovviando alla tavica carenza di personale di polizia che da diversi anni interessa la nostra regione ha concluso Filomena Calenda è ampiamente positivo il bilancio tracciato dall'assessore regionale al turismo e alla cultura Vincenzo Cotugno a un anno e mezzo dal suo insediamento Anna Maria Di Matteo lo ha intervistato va avanti il lavoro di promozione e valorizzazione del Molise e delle sue peculiarità grazie all'impegno messo in campo dall'assessorato regionale al turismo e alla cultura guidato da Vincenzo Cotugno che a un anno e mezzo dal suo insediamento traccia il bilancio dell'attività svolta e del bilancio ampiamente positivo io credo che sia un bilancio estremamente positivo incominciando proprio dal piano strategico del turismo che è stato licenziato proprio ieri dalla quarta commissione e approderà giorni al consiglio regionale un piano largamente condiviso con tutto il territorio con gli stockholder per sette mesi di lavoro intenso da parte di Sviluppo Italia Molise raccogliendo veramente tutte le istanze del territorio per avere una visione nuova di questa regione in un settore, quello del turismo e della cultura che è sempre stato attenzionato da tutti però concretamente poi con pochi risultati e con poche ricadute occupazionali e di sviluppo economico Ecco, un approccio completamente nuovo a questo settore rispetto al passato intanto che cosa le piace ricordare di quanto è stato fatto? A me piace ricordare turismo e cultura per esempio come slogan che ha visto un cartellone del 2018 ma ancora di più meglio il cartellone del 2019 con un fiorire di eventi, di amministrazioni che si sono letteralmente impegnate per la valorizzazione delle bellezze naturali di tutto il territorio e soprattutto per veicolare anche i prodotti stessi e le eccellenze morisane sta partendo il bando per la comunicazione per dare a questa regione un brand una visione che possa essere veicolata su tutti il mercato dell'offerta turistica internazionale Assessore, qual è il suo obiettivo? Ecco, alla fine del mandato di questi cinque anni il suo obiettivo, quello a cui tieni in maniera particolare? Ma il nostro obiettivo è quello del rilancio dei nostri borghi e dei nostri centri storici c'è la possibilità che proprio attraverso questa azione noi possiamo frenare quello che è la desertificazione lo spopolamento dei nostri borghi e dei nostri centri storici lo possiamo fare, lo abbiamo già cominciato a fare con il bando sulla micro ricettività per recuperare le cubature esistenti lo possiamo fare attraverso tutta una serie di operatività che sono inserite all'interno del piano strategico del turismo in modo trasversale perché con quello noi contiamo di poter aumentare l'occupazione nella nostra regione Grazie a un progetto promosso dal Ministero dell'Istruzione e dall'Istituto Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso un gruppo di studenti provenienti da diverse scuole molisane ha realizzato una piattaforma online per promuovere e offrire pacchetti turistici della nostra regione sentiamo di cosa si tratta nel servizio di Sergio Di Vincenzo Dopo aver visitato il Museo del Paleolitico di Sernia e la riserva Mabbunesco di Monte di Mezzo gli oltre 90 studenti del progetto Biosferac provenienti da diverse scuole molisane si sono messi al lavoro per progettare soluzioni innovative di sviluppo sostenibile è stata una tre giorni di confronto ma anche di divertimento e condivisione quella promossa dal Ministero dell'Istruzione è coordinata a livello regionale dall'Istituto di Istruzione Superiore Pertini-Montini-Cuoco di Campobasso tra l'altro selezionato a livello nazionale per partecipare a Matera ad altre sfide progettuali sulla biodiversità i dieci progetti ideati dai ragazzi hanno permesso di evidenziare le potenzialità del nostro territorio e le opportunità da cogliere attraverso il turismo esperienziale puntando in chiave innovativa su enogastronomia, natura, cultura e tradizioni scegliere un vincitore non è stato facile al Photo Finish l'ha spuntata il progetto della Regione Farfalla una piattaforma online che offre e promuove pacchetti turistici destinati a far scoprire il bello e il buono della nostra terra ha vinto un bel progetto anche se per pochi voti proprio che come hai detto bene tu promuove pacchetti turistici questo diciamo dalla scuola, dalle nuove generazioni che può venire la spinta per il nostro territorio speriamo che riusciamo ad esempio a finanziare anche come regione questo progetto quindi come una start up innovativa può essere per il futuro una buona cosa dal mondo della scuola possono dunque arrivare nuove idee e risorse per dare un futuro alla nostra terra di qui la scelta dell'assessorato regionale all'istruzione di patrocinare il progetto ma questa non è l'unica iniziativa in cantiere ieri abbiamo approvato una delibera che abbiamo messo a disposizione 2 milioni di euro per l'orientamento il progetto si chiama Orientiamoli l'orientamento dei nostri studenti dal percorso delle superiore fine quindi poi all'università oppure al mondo del lavoro e ciò che ci manca noi abbiamo carenza di professionalità ogni giorno vengono persone a cercare lavoro però poi dove c'è il lavoro non abbiamo le disponibilità pare assurdo però parecchie aziende sono costrette ad andare fuori regione per trovare le giuste professionalità oggi ci lamentiamo solo, manifestiamo però poi in concreto ci sono persone che non sono rimaste al passo con i tempi e adesso vediamo il servizio realizzato da Enzo Di Gaetano sull'operazione Galaxy della Guardia di Finanza importazioni di auto dall'estero senza pagare l'IVA 23 gli arresti un'operazione su tutto il territorio nazionale sentiamo Enzo Di Gaetano Un'operazione che resterà negli annali della Guardia di Finanza di Zegna che ha portato alla luce un giro di importazione illegale di auto di grossa cilindrata evadendo l'IVA per un totale di 7,5 milioni con fatture false per 52 milioni ben 1.600 le auto importate illegalmente falsificando certificati di immatricolazione e documenti delle macchine 23 gli arresti tra cui due intermediari isernini un uomo e una donna scoperti nella loro attività truffaldina proprio dall'ufficio delle entrate di Isernia Galaxy il nome data all'operazione dagli uomini del colonnello Simeone il motivo è semplice l'iniziale dei telai dei Ford Galaxy è VF0 mentre per le Porsche è VP0 bastava cancellare un tratto piccolissimo della P per far passare per macchine normali le supercar tedesche l'operazione ha coinvolto 200 finanzieri con arresti e sequestri in 7 province Isernia, Frosinone, Latina, Caserta, Salerno, Milano e Macerata numerosi rivenditori di auto coinvolti ma non in Molise due più grandi con precedenti specifici dei rispettivi titolari si tratta di Saidi Auto Expert di Aladino Saidi di origini tunisine nella sua abitazione sono stati trovati 70.000 euro in contanti e orologi di marca nascosti in una botola l'altro grande concessionario coinvolto è FC Car Group di Francesco Tedesco che gli inquirenti ritengono legato al clan dei Casalesi l'operazione Galaxy nasce a Isernia perché e qui come molisani potremmo esserne addirittura orgogliosi alcuni dipendenti della direzione provinciale delle entrate hanno notato la falsificazione dei documenti di importazione delle auto che poi venivano vendute in tutta Italia protagonisti principali due Isernini un uomo e una donna finiti in carcere l'uno a Isernia l'altra a Chieti le auto con le pratiche falsificate con timbri e certificati alterati venivano poi immatricolate in tutta Italia presente alla conferenza stampa in procura Isernia anche il comandante regionale delle Fiamme Gialle un'operazione tipica della nostra funzione di polizia economico-finanziaria 200 uomini in diverse regioni italiane in sinergia con tutti i reparti palese la soddisfazione del procuratore capo di Isernia per un'operazione di risalto nazionale l'operazione è importante oltre che per questi aspetti significativi anche perché la Guardia di Finanza ha portato alla luce una deficienza del sistema di controllo a livello comunitario praticamente la mancanza di comunicazione tra i sistemi informativi sugli archivi automobilistici tra i Paesi membri e questo ovviamente facilita le organizzazioni criminali come questa che è stata scoperta per frodare l'IVA ai danni dei cittadini Insomma un'operazione nata a Isernia che dimostra come nello Stato ci siano anche degli anticorpi che funzionano come la direzione provinciale delle entrate che ha fatto scoprire la grande truffa Abbiamo lavorato in forte sinergia con i colleghi con il direttore provinciale a cui ci legano oltre a rapporti anche di amicizia rapporti veramente di grande collaborazione e effettivamente tutto nasce da un loro input che noi poi abbiamo sviluppato con le nostre investigazioni su tutto il territorio nazionale effettivamente la collaborazione ha portato i suoi frutti Torniamo a parlare di scuola la regione ha deliberato uno stanziamento per favorire la frequenza dei bambini nelle scuole dell'infanzia sostenendo le spese del trasporto scolastico un totale di 230 mila euro destinati sia ai comuni che garantiscono il servizio sia alle famiglie che provvedono con il mezzo proprio Un bando ha spiegato l'assessore regionale Roberto Di Baggio cui hanno risposto numerosi comuni ai quali saranno erogate somme in relazione al numero degli alunni che frequentano appunto la scuola dell'infanzia statale o paritaria per un totale di oltre 1300 bambini nei centri dove invece il servizio comunale ha detto ancora l'assessore non è garantito il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie circa 200 nuclei che a loro volta avendo risposto ai bandi comunali riceveranno circa 180 euro come sostegno alle spese di trasporto per raggiungere la sede scolastica Sulla notizia che la GTM di Termoli ha ripristinato il servizio del trasporto gratuito per i disabili è intervenuta la consigliera regionale di prima il Moliseida Romagnuolo che ha espresso soddisfazione penso che a questo punto chi di dovere ha però detto cioè chi alla regione ha la responsabilità di risolvere definitivamente questo problema si impegni subito a trovare la soluzione a questo gravoso e ingiustificato problema che ha creato a Termoli non pochi disservizi e difficoltà tra i disabili come al solito ha proseguito Romagnuolo per l'inerzia di qualcuno a rimetterci sono sempre le fasce sociali più deboli quelli che maggiormente soffrono la regione deve celermente porre fine a una situazione che è più del comico a del tragico gli uffici regionali competenti ha concluso Romagnuolo provvedano immediatamente a versare nelle casse del comune di Termoli quanto dovuto per poi consentire allo stesso di provvedere a inoltrare alla società GTM le sue aspettanze in questura a Campobasso oggi è stato presentato il gruppo di volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato sezione di Campobasso sentiamo è stato da poco costituito a Campobasso il gruppo di volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale della Polizia di Stato la presentazione ufficiale in questura alla presenza del questore Mario Caggeggi si tratta di un'associazione di volontari e ad oggi 20 associati che affiancherà e aiuterà la sezione cittadina dell'AMPS e il suo presidente Aldo Botticella da anni impegnati in diverse iniziative anche di beneficenza e formazione il gruppo di volontariato è stato spiegato nasce con lo scopo di concorrere ad attività di protezione civile come prevenzione e mitigazione dei rischi di calamità naturali ma anche promozione della cultura della legalità educazione civica e formazione per gestire le emergenze sempre in ambito di protezione civile in conferenza stampa è stato anche annunciato che prossimamente saranno organizzati corsi specifici per preparare gli operatori l'organizzazione inoltre svolge attività di solidarietà e pluralismo con iniziative di carattere sociale e culturale presidente Francesco Di Bartolomeo vice Carlo Remor tesoriera Giovanna Di Giuseppe e i consiglieri Carmen Santella Maria Timperio e Mario Luzzi diverse le collaborazioni con comuni nelle prossime settimane con finalità di supporto per la gestione della sicurezza durante le manifestazioni tra i compiti del gruppo di volontariato anche interventi per valorizzare salvaguardare e migliorare le condizioni dell'ambiente del paesaggio della natura e delle città promuovere e diffondere la cultura il patrimonio storico e artistico e il volontariato intervenire in caso di calamità naturale al gruppo possono aderire maggiorenni che saranno avviati a specifici corsi di addestramento e specializzazione è possibile iscriversi nella sede di Campobasso in piazza Pepe 30A dove sarà presente personale di segreteria dalle 16.30 alle 18.30 il mercoledì si è tenuta a Campobasso nell'ambito delle iniziative per la prima edizione della settimana nazionale della protezione civile una riunione convocata dal prefetto Maria Guia Federico per affrontare le tematiche legate alla gestione delle emergenze con particolare riferimento alla redazione e all'aggiornamento costante dei piani di protezione civile comunali il prefetto ha annunciato che come ha comunicato il capo dipartimento della protezione civile in videoconferenza intenzione della protezione civile nazionale a valersi in tempi rapidi di moderne tecnologie per poter raggiungere tutte le istituzioni e anche i singoli cittadini con un sistema di allertamento all'avanguardia basato sull'invio di messaggi su smartphone alla riunione hanno partecipato oltre ai sindaci anche i rappresentanti di tutte le istituzioni e gli enti che fanno parte del sistema di protezione civile a livello locale e adesso parliamo della giornata nazionale del camminare che è stata celebrata anche in Molise con diverse iniziative da San Giovanni Ingaldo a Gambatesa fino a Campobasso sentiamo Enzo Luongo da San Giovanni Ingaldo Campodipietra e Toro con l'associazione del Morrutto a fare da apripista al giro dell'acqua sul furia del tappino organizzato da Camminamolise e poi il percorso promosso a Gambatesa e il giro di fare verde tra gli alberi più importanti di Campobasso in tanti luoghi del Molise tanta partecipazione per gli eventi organizzati in occasione della giornata nazionale del camminare lo scopera quello di promuovere la diffusione della cultura del camminare attraverso il coinvolgimento diretto dei cittadini delle associazioni e delle amministrazioni locali il cosiddetto turismo lento dunque protagonista con cammini storico culturali una delle iniziative più affollate è stata quella di San Giovanni Ingaldo grazie anche ad una giornata dal clima perfetto più di 100 persone sono andate alla scoperta delle bellezze della zona lungo il percorso anche strade asfaltate ma soprattutto per la maggior parte sterrati e sentieri di campagna salite discese tratti pianeggianti immersi nel verde incontaminato poi le tappe in alcuni punti di interesse storico in particolare la sosta sotto uno degli alberi che sono monumenti nazionali una quercia che ha 500 anni di vita sotto una colazione rigenerante per i partecipanti e il cardiologo che ha spiegato l'importanza dell'attività fisica per il benessere poi ancora i resti del vecchio mulino ad acqua incontrata a campalone le aree con i reperti archeologici e infine al termine della mattinata il fascino del morrutto qui per chiudere un pranzo all'aperto per tutti unimol ripensare pensare le strategie di sviluppo rurale attivate sabato al circolo sannitico di campo di campobasso lo ha intervistato farmi farmi rivedere qui a campobasso fra i miei cittadini diciamo così ma sarà anche l'occasione per presentare un suo libro sì è un libro di poesie che io sono circa cento che quando non creo ecco creo altre cose perché non sono un tipo che sto fermo sono un po' eclettico in tutto non mi fermo mai e di questo sono contento perché una volta decrescenza mi fece pure una bella dedica su un suo libro nell'occasione della presentazione senta espone al circolo sannitico al quale è particolarmente affezionato sì sempre a me non posso dire che vabbè sono affezionatissimo al circolo sannitico per tante cose perché mi trovo proprio a contatto con le persone a me mi piace parlare dialogare ecco la mostra si inaugura sabato e chiuderà quando? il 27 gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 generazione H rapporto tra nuove generazioni famiglia scuola e mondo virtuale dei social è il tema che sarà sviluppato questo pomeriggio a Bagnoli del Trigno dalla professoressa Maria Rita Parsi psicoterapeuta psicopedagogista e scrittrice relatrice d'eccezione al convegno in programma dalle 15 e 30 alla Domus Area come evento inaugurale del corso di formazione a scuola con il cuore con il corpo con la mente il corso promosso dal centro studi e ricerche Cosmo de Orazis è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per docenti di ogni ordine e grado è tutto termina qui il nostro TG delle 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per il TG Flash intorno alle 15 buon pomeriggio per il TG Flash per il TG Flash